Buongiorno amiche! Come va? Come state? Spero tutto bene! Buon 27 dicembre a tutte! Guardate che carina la fascetta skinker di oggi, Baby Shrekina! Molto molto carina, molto simpatica, mi piace tantissimo questa fascetta, mi piace tantissimo! Baby Shrekina, Shrek, Fiona e tutta l'allegra famiglia di Shrek sono così carini, li trovo così adorabili! Quando ho visto questa fascettina non ho potuto resistere! Amiche, buon 27 dicembre! Io mi sto un po' perdendo il conto dei giorni con tutto questo relax! Ma bisogna anche quando si sta a casa volersi bene coccolarsi e quindi Step Skinker anche oggi, il primo step come sempre è il Tonic Comfort seguito subito dal contorno occhi Iceland Hydrating A-Stick di The Saem! E' un contorno occhi, uno stick super rinfrescante a forma di orso polare! Quando l'ho comprato su Amazon era un pochino indecisa perché è un po' caro, mi pare di averlo pagato 9,90€ ma mi sembrava tanto! Però devo dire che invece è molto buono e questo invece è lo Scrub di Nivea all'Aloe! Amiche all'Aloe vera, molto simile a quello di Labello ma con un po' meno granuli! E ora via con i prodotti di Lancome! Questo è Advanced Genifique, l'attivatore di giovinezza che ci ha fatto venire un sacco di genipini in questi giorni ma non mollo! Sono curiosa di vedere il risultato alla fine del ciclo diciamo di trattamento con Lancome! E questo è il contorno occhi! Il contorno occhi devo dire che mi sta piacendo molto! Chissà si attenuerà un po' le mie rughe da panda! Io ho delle rughe veramente forti e questo è il Lancome Advanced Genifique Occhi! Questa invece è la crema viso sempre di Lancome! La René G HPN 300 Peptid Cream, una crema anti-age, un 50 ml di baratolone gigante che avevamo trovato all'interno della box holiday di Lancome! Quindi abbiamo accattato questi prodotti a un prezzo veramente molto conveniente! Ora rimuoviamo i rimasugli dello scrub, del lip scrub e applichiamo questa meraviglia! Questo l'ho pagato pochissimo perché mi pare sui 3 euro sul sito di Revolution! Ed è il Blueberry Violet di Willy Wonka! The Chocolate Factory di Revolution! È il mirtillone gigante come quello del film appunto! Amiche mi sono guardate il film adesso sotto le feste, quello del 2005 però con Johnny Depp! Quello nuovo al cinema no perché siamo tanti e comunque è un po' difficoltoso andare al cinema perché l'opinionista non è sempre sicuro che gli piacciono i film al cinema e quindi noi aspettiamo per guardarlo tutti insieme con pazienza che esca su Sky o su Netflix o su una di queste mille piattaforme che esistono adesso! È molto profumato e sa di buono e di mirtillino! Questa invece che stiamo applicando adesso è la crema a collo! È un trattamento giovinezza decolta e collo levigante e rassodante di Clarence! È questa per le mani e la cremania all'olio di argandile o crema! Nutre e idrata con olio di argand 100% biologico! È profumatissimo, sa di buono, mi piace tantissimo! Ma è già ora dello step, make up, il concealer, il correttore! Guardate quanti ginipini che c'ho nella faccia! Mannaggia, mannaggia! E quindi dobbiamo applicare un correttore sicuramente verde per attenuare i rossori e i ginipini dalla faccia! Applichiamo come prima di tutti lo 005 che è quello con la striscia verde E dopo oggi proviamo ad applicare quello aranciato che è il Pupa Cover Cream Concealer 004 È quello per le occhiaie bluastre Invece il giallino che proveremo un'altra volta è il numero 007 Ed è per le occhiaie violacee A noi, amiche, a me servirebbe quello per le occhiaie nere da panda Ma non c'era, quindi proveremo questi due Io faccio sempre un po' fatica ad aprire, diciamo, le confezioni nuove Infatti anche oggi mi ha fatto un po' tribolare l'apertura E la fuoriuscita, diciamo, iniziale del prodotto da questi concealer Ora stessa cosa, amiche, ci proviamo Gira, 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 gira E è un po' difficoltoso Quindi io un pochino mi spazientisco quando devo aprire le confezioni nuove Vedete che giro all'infinito, non esce nulla Finalmente il prodotto è uscito e lo applichiamo nelle occhiaie da panda Io ne metto un botto, amiche, una chilata E nonostante la chilata devo dire che Non mi sembra che sia super coprente questo correttore E quindi non so, così di primo acchito Direi, boh, lo riproviamo, gli diamo sicuramente altre possibilità E insieme a lui applichiamo anche questo fondotinta in stick Il pan stick di Max Factor In colorazione 13 Nouveau Beige E questo stick, non lo so Avevo un po' di dubbi sull'utilizzo Perché avevo paura fosse cremosino E mi facesse tutto un pastone in faccia Ma devo dire, non è profumatissimo La profumazione che ha non mi dice nulla, amiche Mi lascia così un pochettino col dubbio Boh, però lo proviamo comunque Lo sfumiamo e vediamo un po' cosa succede Devo dire che pensavo peggio Non mi ha impiastriciato più di tanto E lo trovo abbastanza facile da sfumare Ne è bastato anche poco E l'effetto è molto carino, secondo me Invece questo correttore per le occhiaie Lo trovo troppo, troppo, troppo leggero Infatti sfumiamo, sfumiamo Però le occhiaie, vedete che si vedono ancora Si percepiscono ancora le occhiaie Nonostante abbiamo già applicato Una buona quantità di correttore Quindi lo riapplichiamo Ne mettiamo ancora un pochetto, amiche Sperando che lo copra finalmente Col secondo strato So che per tanti può sembrare strano Che io applichi prima il correttore Ma in realtà lo sfumo assieme Se poi non è abbastanza coperto Ne metto ancora un pochino Questo invece che andiamo a provare oggi È la Matti Fing Compact Powder di Essence Una formula leggera Che dovrebbe, diciamo, un po' minimizzare i pori Nella colorazione 02 Soft Beige È di Essence L'ho pagata pochissimo su Amazon Ed è veramente leggera Confortevole Io la trovo molto molto buona Ed ha un effetto molto naturale Il blushino che applichiamo oggi È l'Extreme Blush Pupa Radiant In colorazione molto molto delicata Perché è un pesca molto bello E il numero è lo 030 È un blush compatto con effetto luminoso Mi piace veramente tanto Lo trovo super super carino Facile da sfumare Con un effetto molto naturale Di guanciotte appena baciate dal sole E questa meraviglia è Glow Obsession di Pupa Il Liquid Highlighter È un illuminante liquido All over Effetto metallico amiche Io ero impazzita letteralmente A cercarlo Se non mi ricordo male Questo qua In colorazione 100 L'ho trovato in un outlet di Pupa Bellissimo Ne avevo preso altri Che però erano sempre di Pupa Ma non erano questo qua L'avevo visto in un video Mi era super piaciuto E l'ho cercato Sono impazzita per trovarlo E lo fissiamo come sempre Con un pennello sporco Un po' di cipria Così andiamo a fissare il tutto Amiche Ecco la fascetta di oggi di Shrek È il motivo È che dovevamo utilizzare Questa palettina Dell'omino pan di zenzero Di Zenzi O anche chiamata Gingy Dipende un po' da dove siamo Ed è molto carina Nella diciamo nella copertina Nel pack esterno C'è Zenzi Con un candy cane In mano Ed è super sorridente Noi oggi andremo A provare a fare un make up Super super natalizio Nei toni del dorato E a me che cerco di intensificare Creando la parte esterna dell'occhio Con un dorato aranciato Bello carico Bello acceso E anche intenso Cerchiamo di sfumare la parte esterna dell'occhio Per allungare lo sguardo Ed intensificarlo Mi piacciono tantissimo I toni dei dorati Il bronzo Anche Io li uso tantissimo Anche d'estate Devo dire che mi piace tanto E creare anche Una piccola V Sfumata Con un marrone Molto caldo E molto intenso È una cosa che mi piace Veramente tanto Perché mi sembra Che dia una profondità Allo sguardo E dia anche Un accenno Di look grafico Con il make up di oggi Ho usato Sfumato Amiche Ho messo una quantità Di ombretto Che forse Diciamo Amiche Ho zaccato Perché Ho quasi esagerato Mi direte voi Nei commenti Se questo look è esagerato Perché ho messo L'ombretto Anche nella parte Inferiore Dell'occhio Che è una cosa Che non faccio mai Ma la trovo Super carina Quando la fanno Gli altri E quindi ho voluto Provare anche Su di me A fare questa cosa Ora applichiamo Anche questa matita Dorata Che avevamo trovato Nella box Del mago di Oz È dorata È super super luminosa E la applico Nella parte Interna Dell'occhio Nella rima interna Inferiore Dell'occhio E ora Voila Oggi Non risparmiamo Sulle matite Proviamo ad applicare Anche questa matita Intense color Long lasting Eyeliner Di Kiko Nella colorazione 16 Ma è un nero Il numero è il 16 Comunque un bel nero Intenso E vado ad applicarne Un po' Nella parte esterna Dell'occhio Per andare Allungarlo Una codina E segno Appena appena Proprio L'ultimo centimetro Dell'occhio Neanche Forse anche Un po' meno Di ultimo centimetro E voilà Il mascara Che proviamo Oggi Sembra in camera Sembra la scritta Bloom In realtà È il viola Amica L'essence Lash Princess Sculpted Volume Mascara Io vorrei provare Quello verde Mando un bacio grande All'amica Che ce l'ha chiesto Nei commenti Ma non lo sto trovando Appena trovo Anche il verde Proviamo anche Quello assieme Intanto Oggi proviamo Il viola Ti mando Un bacio grande Grande Grazie Per averci chiesto Appunto Di provare Anche l'altro Appena lo troviamo Proveremo Anche quello lì Ora cerchiamo Di truccare Anche il secondo occhio Amica È già così La differenza Tra l'occhio truccato E l'occhio non truccato Secondo me È veramente pazzesca La differenza Che fa il make up Nei nostri occhi È veramente tanta Io faccio un po' Di fatica A vedermi Senza make up Ormai Ormai sono proprio Abituata A vedere La mia faccia Truccata Che Se per caso Passo E in uno specchio Mi vedo il riflesso Senza Mi pare che ci sia Qualcosa di strano Ecco amica La normalità Probabilmente Non dovrebbe essere Questa Ma è così Io mi sono abituata A vedere La mia faccia Truccata E poi mi piace Mi dà un senso Di allegria Il colore Negli occhi Ecco il rossetto Diciamo che Posso anche Farne a meno Non muoio Se non ce l'ho Invece L'ombretto Gli occhi truccati Mi sembra di avere Qualcosa di strano Se non ho L'ombretto E soprattutto Il correttore Negli occhi Perché ho Veramente Tantissime Occhiaie Che mi fanno Sentire A disagio Amiche Sono super curiosa Di sapere Cosa ne pensate Di questo Make up Di oggi Super gold Super dorato Magari Uno di questi giorni Creiamo anche Qualche look Carino Per Capodanno Magari anche Più di uno Così da vedere Se ne viene fuori Qualcuno Che potrebbe essere Usabile Per il cenone Di Capodanno Amiche Per il 31 Qualcosa super glam Nei toni Del rosso Nei toni Magari anche Del nero E come diceva Un'amica Oggi Nei commenti Con tanti 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 glitter Bellissima L'idea Che ha avuto Del nero Con i glitter Ti mando Un bacio Grandissimo Hai avuto Un'idea Molto Molto Bella Uno di questi giorni Proviamo anche Noi a realizzare Qua un make up Con il nero E tanti Tanti glitter Amiche Questo è il risultato Di oggi Con la palettina Di Zenzi Questo look Okchi Molto dorato E amiche Mi è caduto Il tappino Della matita labbra Lo sto cercando Ma non l'ho trovato Pazienza Uscirà E ora Amiche Applichiamo Questi prodottini Allora Uno è la matita Labbra Di Kiko Questa matita È la numero 409 L'avevamo trovata Se non sbaglio Nel calendario Dell'avvento di Kiko È molto 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 Rossa Quindi proviamo Ad applicarla In una maniera Abbastanza Diciamo Giusta Senza Senza Sbavare Amiche Non bisogna Far tremare La manina Quando si applica La matita Io ho sempre paura Di fare Un baffo Rosso E che mi parta La matita E che sia tutta Sbavata E di rovinare Anche la base Quindi sto sempre Un pochettino In ansia Quando metto La matita Però dai Sembra che Stavolta Sia andata Oggi è tutto Tranne che sobrio Il make up Delle labbra E proviamo Ad applicare Anche un po' Di rossetto Voglio applicare Il rossetto Di Kiko Questo qua È della linea Holiday Premier In colorazione 02 E l'avevamo trovato Nel calendario Dell'avvento Di Kiko È molto Molto Carino Piccolino Proprio Bellino Questo Mini Mini Rossettino Amiche Molto Molto Bello E È una Colorazione Diciamo Nude Ma non Troppo E ora Voglio applicare Sopra Questo Mattitone Di Pupa Che abbiamo Trovato Nel calendario Dell'avvento Di Pupa Lo shine up Lipstick Che è Pazzesco In colorazione 003 Perché è Molto Molto Glitterina Quindi volevo Aggiungere Nel Make up Labbra Di oggi Un po' Di glitter Quindi Già tre Prodotti Amiche Ma Applichiamo Anche Un altro Prodotto Sulle Labbra Oggi Tanti Tanti Prodotti Sulle Labbra Anche Questo Glossino Rosso Di Shrek Che avevamo Trovato Nella Box Di Shrek Se non Sbaglio Anzi No Era nel Calendario Dell'avvento Di Zenzi E la Colorazione È Veramente Bellissima Amiche Questo È Il Make up Labbra Che abbiamo Ottenuto Con L'utilizzo Di Ben Quattro Prodotti Oggi Amiche Ho esagerato Perché avevo Tempo Sono in relax Qua a casa E quindi Non avevo Il tempo Contato E questo È Il look Cocchi Che abbiamo Realizzato Con la Palettina Di Zenzi E Il Mascara Di Essence Fatemi Sapere Se vi va Cosa ne Pensate Di questo Make up E oggi Cosa farete Vi rilasserete Un po' Potrete rimanere Sul divano A rilassarvi Come sempre Vi mando Un bacio Grande 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 E ci vediamo Nel video Del pomeriggio Ciao Amiche Corro a fare Un po' Di spesa Dopo Un bacio Amiche